Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati con la quarantesima puntata di Ghost Recon Oggi siamo qui per andare a prendere l'emmissario Quindi facciamo partire la signorina che parla E poi andiamo a trovarlo Cominciamo subito Bene, andiamo a prenderlo Sarà da prendere... oh ma cos'è sta zona? Una zona molto caliente Ecco, c'era un convoio di medicina Secondo me sta bene alla busta Sardino 3 km di 3 Speriamo che non ci spawnino davanti come l'altra volta Poco ci mancava Scorsa volta siamo andati a prendere un po' di gente Abbiamo anche molte, molte missioni ancora da fare Guarda sto... Che come già detto andremo a fare un po' dietro le quinte Poi registreremo quelle 2-3 puntate per andare a prendere il boss finale Giusto perché altrimenti vengono fuori 100.000 video e mi sarebbero un po' esagerato E sicuramente verso la fine quando avremo catturato tutti e mancherà solo lui Solo il sueño Allora lì faremo quel video e andremo a prendere il sueño E lo lasciamo per ultimo intanto E andiamo a ripulire tutta la Bolivia qua Che c'è Quanto ci manca ancora? 1,7 km Poi con sta radia del Santa Blanca poi Eh io ce le ho disattivate Onde evitare copyright sai perché è un attimo L'ho visto molto su GTA Primo video che ho fatto su GTA 5 C'era come sempre c'era la radio in macchina E tac subito rivendicazione copyright ma va in bella vita E allora disattivo subito musiche dei menu e radio se devo registrare certi giochi Ah Marco tu c'hai pure GTA 5? Certo Cioè avevo No perché io ce l'avrei pure io GTA 5 Allora non ho iniziato Ah io ho finito tutto Buongiorno Dici che ti hanno visto entrare Pensa che ho fatto una strascia E' finciata solo col pick up Ops ho visto uno che è stato preso sotto Io direi da scendere Voi non su te Vedo che la pistolina spara lei Oh chi è che è sparata qua? Chechino Oh qua adesso partiamo subito con quelli viola Dove sei ho sto emisario qua? Caputo Caputo Emisario Emisario Eh l'emisario sta sopra Ma l'hai detto Anche un cechino vedo che sta sopra però Em Ma mamma mia ma dove è sto il cechino? Marco Sì sì ti ho visto ti ho visto Stavo cercando di vedere In 28 secondi Sì beh dovrei farcela Oltre al fatto che stanno sparando Stanno sparando alle chiappe Ma guarda te Ma guarda te Con la mega arma che ho Non riesco a sparare attraverso i vetri Che roba Ce l'hai tu l'emisario qua No Mamma mia che tiro una granata Guarda adesso guarda Tutto a far via Dove è sto tizio qua? Bisogna salire ancora Ancora Dove è andato? Sopra il tetto Sì Però non ti voglio dire come lo troverai Aspetta un secondo che devo sbaracciarci Dobbiamo sbaracciarci di un po' di gente qua Alle calcagne che sennò poi Non è più finito Come si dicono hanno rotto le scatole Sì Facciamoli fuori Subitissimo Certo che sono arrivate in molti tanti Granata C'è un cecchino là Sopra Adesso guarda Dietro le rocce non si riesce neanche a prendere Ah C'abbiamo pure l'amico nostro elicottero Eh allora meglio che andiamo a prendere l'emisario Perché questi qua sono dell'unità Fin che non leviamo le chiappette Eh me sai che l'ho fatto fuori io Meglio Non so come ho fatto E che ho fatto direttamente il piove Ok Ci siamo Il tetto è libero Cazzo Signore e signori E l'emisario ci è sfuggito Ho preferito uccidersi che affrontare suo nonna Per questa storia E abbiamo spinto noi a farlo Davanti basta Abbronzate Ha fatto una scelta Dobbiamo controllare il corpo Vedere se ha qualcosa addosso Marco Sì arrivo arrivo Vieni qua Oh si è in piccato Ispezioniamo Vediamo Un libretto importante Una mappa Una cartina Ecco Faccio quello che serve Per portare a termine le missioni Come voglio Ho chiesto Vediamo adesso Cosa succede Con qui Quattro là che rompono le scatole Granata Attenti Ricevuto Apriamo Ah Rotto il scatole Sto è rivolto Ero Ah ma non so Prima Stiamo abbattendo Praticamente Tutto l'esercito Dall'unità Adesso guarda Io sto quattro Che questi non la smittano Quando pensi Che la smittano Ah non lo so Senti Io direi Di Come se vuol dire Di darci alla fuga Come la vedi Sì perché Mi sa che qua Questi qui Continuano all'infinito Fin che Non Crepano tutti Non ci finiscono i colpi Ah Anche Oh guarda qui C'era una musica Console Festa in piscina Eh sì L'hai notato solo ora Eh sì però Un altro elicottero E basta Senti io vedo Molto positiva Andasse con l'elicottero Come la vedi tu Sì il problema è Sì no Non c'è nessun problema Mi rinfresco un attimo Sai com'è Dopo tutte queste Queste Lotte qua Un po' di rinfresco Sai com'è Però è meglio che Ce ne andiamo Specialmente sulle parti intime Che ci vuole ovviamente Meglio che ce ne andiamo Anche prima di subito Perché Praticamente Loro sono qua Un pilota vivo Dai 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 Bene Meglio prima di subito No? Sì Direi che Anche per Questo video è tutto Ottimo lavoro La squadra Aspetta che abbiamo Assignorina Liberare l'ospedale Con i vaccini Ha salvato un sacco Di vite innocenti Facciamo del nostro meglio Il cartello Dovrà aumentare Gli sforzi Per compensare Le perdite Forse Ma se non Pagano la gente E perdono la loro lealtà Esatto Ci sentiamo Bene Adesso vado a fare il culo Un attimo A quel Babbeo Che mi ha tirato Con Con l'antip Con la contraerea Ah sono lì Tark Sei vivo ancora? Sì sì Va bene Io sto atterrando adesso Ok Bene ragazzi Commentate Iscrivetevi Lasciate un bel like Io vado a fare giustizia Dato che mi hanno abbattuto L'elicottero Un buon elicottero poi Eh? Un buon elicottero poi Un buon elicottero Un elicottero anche di tutto rispetto E Ebbene Ciao a tutti E alla prossima Ciao 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 a tutti 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 Grazie a tutti